E' pronta una nuova stretta sui fumatori. La promette il ministro della salute, Orazio Schillaci, che vuol vietare il fumo nei dehors, gli spazi all'aperto di bar o ristoranti con tavolini, fermate dei mezzi pubblici, parchi alla presenza di bambini e donne incinte e promette di eliminare anche le sale fumatori negli aeroporti. Il titolare del dicastero della salute nella bozza del testo di legge prende di mira non soltanto la sigaretta tradizionale, dunque catrame, carta, nicotina, ma anche le e-sig, le sigarette elettroniche e i prodotti da tabacco riscaldato. La scienza tuttavia proprio sulle sigarette elettroniche si divide. Per il COHEAR dell'Università di Catania le alternative alla sigaretta, le e-sig senza combustione, si sono dimostrate dal 95 al 99% meno tossiche delle bionde convenzionali e rappresentano oggi l'unica vera soluzione per una politica sanitaria che manca di una proposta razionale per tutti coloro che non vogliono o non riescono a smettere. Il direttore del COHEAR Giovanni Livolti. Purtroppo mettere sullo stesso piano sigaretta tradizionale e sigaretta elettronica è sbagliato in principio, in quanto sono due prodotti completamente diversi. La sigaretta tradizionale genera un fumo in quanto brucia a temperature 700-800 gradi, cosa che invece non fa la sigaretta elettronica. Vi ricordo che ci si ammala a causa dei prodotti della combustione della carta e non per la presenza di nicotina o di altri prodotti. Già va da sé che questa semplice asserzione dimostra come la sigaretta elettronica sia meno tossica della sigaretta tradizionale. Se poi ci mettiamo le evidenze scientifiche prodotte anche nei nostri laboratori che dimostrano che svapando la sigaretta direttamente sulle cellule dell'albero respiratorio rispetto al fumo tradizionale ha una tossicità ridotta del 95%, ecco che la risposta è di facile soluzione, ossia che la sigaretta elettronica è molto meno tossica, anzi l'abbiamo misurata, 95% è meno tossica rispetto alla sigaretta tradizionale.